Il gatto persiano è tra le razze più amate e premiate da tutti. Si presenta come un gatto maestoso e dall'aspetto aristocratico, dal portamento elegante e sordione e si adatta bene alla vita d'appartamento. Sono gatti conosciuti per la loro bellezza, il loro temperamento affettuoso e il loro aspetto iconico della pelliccia lunga e setosa. Guarda allora questo video fino alla fine per scoprire 10 curiosità sui gatti persiani che probabilmente non sapevi. Ma intanto se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Numero 1. Origine I gatti persiani hanno origine nell'attuale Iran, in passato noto come Persia, molti secoli fa, all'epoca dell'impero persiano. Si pensa che i gatti persiani siano originari delle regioni montuose dell'Iran e siano stati elevati per secoli da popolazioni locali. Tali popolazioni hanno selezionato i gatti con caratteristiche specifiche per creare una razza distinta. Inizialmente i gatti persiani erano conosciuti come gatti di Shiraz, nome derivato dalla città di Shiraz che era il centro d'allevamento. Nel 1620 Pietro della Valle, un mercante italiano, portò alcuni gatti persiani in Italia, dove divennero rapidamente popolari tra l'aristocrazia italiana. Nel corso dei secoli i gatti persiani sono stati allevati in Europa e in America, dove sono divenuti una delle razze di gatti più popolari al mondo. Ad oggi diversi allevatori hanno creato diverse varietà di gatti persiani, tra cui i gatti a pelo corto e quelli a pelo lungo. Numero 2 Aspetto I gatti persiani sono famosi per la loro pelliccia lunga, morbida e setosa. Possono avere una grande varietà di colori e tipologie di manto. Per esempio, quella a pelo corto, ma anche a pelo lungo, che rappresenta la varietà più comune di gatto persiano. Esiste il gatto persiano himalaiano, noto anche come gatto siamese a pelo lungo. Ha una pelliccia bianca con macchie di colore sul viso, le orecchie, le zampe e la coda. Gatto persiano cincillà. Questa varietà ha una pelliccia argentea e bianca. Il gatto persiano calico presenta una pelliccia a tre colori, solitamente bianco, nero e arancione, ed è nota per il suo temperamento socievole. Ma anche il gatto persiano bicolore ha due colori, spesso bianco e nero o bianco e arancione. Infine, possiamo trovare il gatto persiano tabby, con una pelliccia striata che può avere diverse combinazioni di colori, tra cui il tabby classico, il tabby maculato e il tabby marmorizzato. Numero 3 Carattere I gatti persiani sono noti per essere tranquilli e affettuosi, ma anche un po' pigri. Il carattere del gatto persiano varia a seconda del singolo gatto, ma in generale sono noti per essere dolci, calmi e affettuosi. Amano trascorrere il loro tempo sdraiati in luoghi soffici e confortevoli, infatti vengono spesso descritti come gatti da divano, poiché amano riposare e rilassarsi accanto ai loro proprietari. I gatti persiani sono solitamente amichevoli con gli estrani e con gli altri animali domestici, se presenti in casa. Tuttavia, possono essere timidi e riservati con le persone che non conoscono bene. In genere, i gatti persiani sono animali domestici affettuosi e delicati, che amano la compagnia dei loro proprietari. Sono adatti a vivere in appartamenti e a trascorrere gran parte del loro tempo in casa, ma hanno bisogno di essere stimolati mentalmente e fisicamente, per evitare noia e sedentarità. Numero 4. Vita media La vita media di un gatto persiano è di circa 12-15 anni, anche se alcuni possono vivere fino a 20 anni. Ci sono alcuni fatti da considerare che possono influire sulla loro aspettativa di vita. È importante sapere che i gatti persiani possono essere soggetti ad alcune malattie ereditarie, come la policistica renale e la cardiomiopatia ipertrofica. Tuttavia, la maggior parte dei gatti persiani sono animali domestici sani e possono vivere una vita lunga e felice, con cura appropriate e una dieta sana ed equilibrata. Come con qualsiasi amico a quattro zampe, è importante prendersi cura del proprio gatto persiano e portarlo regolarmente dal veterinario. Numero 5. Cura e alimentazione La cura e l'alimentazione del gatto persiano sono importanti per garantire che il gatto sia in buona salute e che possa vivere una vita serena. Per quanto riguarda l'alimentazione, i gatti persiani hanno bisogno di una dieta equilibrata e di alta qualità, ricca di proteine e moderata in grassi. È importante scegliere alimenti specifici per gatti e adattare la porzione in base all'età, al peso e all'attività fisica del gatto. I gatti persiani richiedono una cura regolare della pelliccia per prevenire grovigli e irritazione della pelle. Spazzolare il gatto regolarmente aiuta a mantenere la loro pelliccia in buona salute e a prevenire la formazione di grovigli. I gatti persiani possono anche essere inclini a problemi di salute. Ad esempio, i gatti persiani sono soggetti a una condizione in cui si possono accumulare le lacrime intorno agli occhi. Quindi è buona abitudine pulire delicatamente gli occhi del gatto con una soluzione di acqua calda e un batuffolo di cotone per aiutare a prevenire questa condizione. Numero 6. Popolarità I gatti persiani sono una delle razze di gatti più popolari al mondo e sono stati elevati per la prima volta in Europa nel 1600. Sono stati amati da nobili aristocratici in tutto il mondo per secoli e sono diventati una presenza comune nelle case di molte persone come animali domestici. Nel corso degli anni, i gatti persiani sono stati presentati in mostre di gatti e competizioni, diventando famosi per la loro bellezza e per il loro comportamento affettuoso. Oggi, i gatti persiani rimangono tra le razze più popolari. La loro bellezza, dolcezza e personalità tranquilla li rendono animali domestici ideali per molte persone, soprattutto per coloro che amano passare il tempo a coccolare e a cuidire il proprio animale domestico. Numero 7. Esposizioni feline Le esposizioni di gatti persiani sono eventi in cui i gatti di razza vengono presentati e valutati da giudici esperti. Queste esposizioni sono organizzate da club e associazioni feline in tutto il mondo. Offrono ai proprietari di gatti persiani l'opportunità di mostrare le loro razze, di competere e di socializzare con altri proprietari di gatti persiani. Durante le esposizioni di gatti persiani, questi sono valutati secondo uno standard di razza specifico, che descrive le caratteristiche desiderate per la razza. I gatti sono giudicati sulla base di aspetti come il colore e la qualità del pelo, la conformazione del corpo e la forma della testa. Le esposizioni sono anche un'opportunità per i proprietari di gatti persiani di imparare di più sulla razza, di incontrare altri appassionati e di partecipare a seminari e conferenze sulla salute e il benessere dei gatti. Ricorda però, se il tuo gatto persiano non è incline a questa attività, non costringerlo. Si tratta comunque di qualcosa di stressante per il tuo gatto, quindi è giusto rispettare le sue preferenze. Numero 8. Peso Il peso di un gatto persiano può variare in base all'età, al sesso e alla taglia del gatto stesso. In media, i gatti persiani maschi pesano circa 4-6 kg, mentre le femmine pesano tra i 3,5 e i 5 kg. Tuttavia, ci sono alcune varietà di gatti persiani che possono essere più grandi o più piccoli della media. È importante tenere sotto controllo il peso del gatto per garantire che sia in buona salute. L'eccesso di peso può portare a problemi di salute come diabete, problemi cardiaci e problemi articolari. Quindi è importante mantenere il gatto in forma con una dieta sana e con un esercizio fisico regolare. Numero 9. Pulizia La pulizia del gatto persiano è importante per mantenere la pelliccia in buona salute e prevenire grovigli e irritazioni della pelle. I gatti persiani presentano una pelliccia folta e lunga che richiede una spazzolatura regolare per prevenire grovigli e nodi. Quindi è consigliato di spazzolare il gatto almeno una volta al giorno utilizzando una spazzola a setole morbide o un pettine a denti larghi. In questo modo si andrà a rimuovere il pelo morto, si andrà a stimolare la circolazione sanguigna e si potranno prevenire eventuali problemi della pelle. I gatti persiani non hanno bisogno di essere lavati frequentemente, ma occasionalmente possono essere lavati con acqua tiepida e uno shampoo specifico per gatti. E' importante evitare di bagnare la testa del gatto perché l'acqua potrebbe entrare negli occhi e causare irritazione. Potrebbe essere ideale rivolgersi a una tua lettatura professionale per tagliare e modellare la pelliccia, rimuovere eventuali nodi e fornire consigli sulla cura della pelliccia del gatto. Numero 10. Celebrity Pets Infine, sapevi che i gatti persiani sono noti per essere amati da molte celebrità in tutto il mondo? Tra questi troviamo Taylor Swift, Mariah Carey, Katy Perry e anche Salvatore Dalì. Il famoso artista surrealista spagnolo era noto per essere un grande amante dei gatti persiani, tanto ad aver dedicato un'opera d'arte a un gatto persiano intitolata La mia anima gattesca. Eri a conoscenza di queste curiosità? Scrivicelo nei commenti. Bene, finisce qua questo video. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un like a questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao e a presto. Noi ci vediamo nel prossimo.